Sì, sia gli atleti che la giuria naturalmente lavora come se fosse a livello internazionale, si stanno preparando gli esercizi per gli europei e i ginnasti stanno rispondendo naturalmente con la preparazione attuale, manca ancora un mese, ci auguriamo naturalmente che ancora tutto il programma possa essere migliorato. Carlotta Ferlito intanto, andiamo a vedere il libero per la ginnastica lissonese. Doppia rotazione, molto bene con la gamba elevata e verticale, gugnando la caviglia, flick tempo flick e doppio avvitamento dal salto teso. Rondata di Flak, doppio avvitamento e mezzo. Molto buono questo lavoro.